Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Casi e oggi vi mostrerò cosa fare dopo aver battuto il capopalestra di Leopoli Allora, non tutti sanno cosa fare perché spesso appunto si ritrovano all'aeroporto e non capiscono cosa devono fare Intanto vi ho fatto vedere dal po' che sto chiamatelo come vi pare, dove andare Ok, se arriverete qua, arriverete all'aeroporto, qua ci troverete la ragazza, insomma la vostra amica che dovrete sconfiggere E una volta entrati dovrete fare questo percorso, allora sulla sinistra dovrete in pratica uscire dall'aeroporto E una volta usciti qua sulla sinistra ci sarà questo percorso E niente, da qua dovrete proseguire la storia, se guarderete questo fiume, questo laghetto Vi verrà a soccorrere un ragazzino e vi spiegherà come fare appunto a attraversare questo fiume Intanto vi ricordo che se pigerete il tasto interazione fissando questo cartello Arriverà fraligator, ok? Perché magari schippando tutti i dialoghi vi perdete questo pezzo Allora, guardando questo cartello e interagendoci Sarà possibile far arrivare fraligator dall'acqua Guarda, lo facciamo in diretta Chiamiamo fraligator Ah niente, no niente Ho cambiato idea Niente ragazzi Spero che il video per quanto breve vi sia piaciuto Se così è stato lasciate un like Iscrivetevi al canale Per supportarmi E niente Ci vediamo un prossimo video Ciao raga Ciao